Tragede in via Malea Pagani. Due donne sono state trovate senza vita questa mattina. A dare l'allarme sono stati i residenti. La prima, una infermiera sessantenne, si sarebbe lanciata dal balcone. La seconda, una ragazza di circa 30 anni, è stata rinvenuta senza vita nel letto, nella sua stanza. Secondo la prima ricostruzione effettuata dai carabinieri del reparto territoriale di Nocere Inferiore, la donna avrebbe compiuto il folle gesso dopo aver trovato il cadavere della figlia riverso nel letto della cameretta. Indagini in corso per far luce sul mistero. Gli investigatori ipotizzano un duplice suicidio. Il sindaco di Pagani, Salvatore Bottone, tra i primi a raggiungere il luogo della tragedia, ha confermato che la famiglia era già seguita dai servizi sociali del comune e la ragazza anche dal centro di salute mentale. Erano persone per bene, ha commentato il sindaco. Quanto accaduto si lascia a sgomenti e una tragedia che addolora l'intera città di Pagani.